Salve a tutti, buon pomeriggio innanzitutto e grazie dell'invito al Centro Machiavelli e soprattutto un saluto agli ospiti degnissimi di questo panel. Io inizierei subito per non perdere tempo perché sono sicuramente più coinvolgenti e importanti le risposte dei nostri ospiti. Partirei con una domanda, qui il titolo è l'elezione della guerra e la difesa europea. Partiamo proprio dalle elezioni che ci possono dare queste guerre di oggi e soprattutto abbiamo visto che dalla guerra in Ucraina c'è un grande punto che è l'ampliamento della Nato e nello stesso tempo si parlava prima con insistenza, ora magari un po' meno, di difesa europea. Allora chiedo una prima domanda all'ammiraglio De Felice, che tutti conosciamo. Se possiamo fare un discorso su come si mettono in parallelo l'ampliamento della Nato, quindi il suo rafforzamento e l'idea della difesa in Europa e la difesa europea. Bella domanda, grazie. Iniziamo subito con questa domanda che vede senz'altro il prevalere dello strumento politico militare della Nato rispetto allo strumento politico militare europeo. Non c'è dubbio su questo. Lo stesso trattato di Lisbona, che ricordo essere del 2009, oltre a definire la difesa comune in Europa, nell'Unione Europea, definisce anche il primato della difesa nazionale e la partecipazione alla Nato, nonché all'eventuale neutralità, come ad esempio l'Austria, che fa parte dell'Unione Europea, ma non fa parte della Nato. Quindi questi concetti sono fondamentali, che già mette il must della struttura strategica dell'Unione Europea in subordine a un obbligo, se non a una posizione di neutralità, come dicevo, dei Stati membri nel contesto della Nato. Quindi questo non vi è dubbio, è molto importante dirlo, anche perché ciò che poi negli effetti delle operazioni, quindi nel dominio operativo, quindi si passa dal dominio politico al dominio operativo, vediamo che le esercizioni delle nostre forze armate e quindi anche delle altre forze armate dell'Unione Europea, degli Stati membri dell'Unione Europea, sono alquanto minime. Soltanto adesso ne hanno fatta una, si chiama Milex, che si è svolta in Spagna, dove hanno simulato uno sbarco per la difesa della popolazione civile nel porto, di un porto spagnolo. Quindi siamo proprio a livelli primordiali delle associazioni che, come sanno tutti i militari, sono la base essenziale dell'addestramento e dell'istruzione militare per eccellenza. Quindi da un punto di vista poi impiego delle forze militari, è vero che ci sono tante missioni e operazioni dell'Unione Europea, ma è anche vero che se vogliamo parlare di impatto bellico in senso lato, non vi è dubbio che la Nato ha la supremazia e che la stessa Unione Europea si pone in subordine da un punto di vista proprio dei suoi concetti strategici, così lo vediamo anche nello strategic compact dell'Unione Europea, si pone in subordine al concetto strategico della Nato stessa, che sappiamo essere in evoluzione. Quindi un po' questo è il concetto che io credo sia importante definire. Grazie mille. Passerei la parola al dottor Razzone, ministro plenipotenziario, e proprio a questo proposito chiederei, noi parliamo di difesa europea, parliamo di una difesa che si deve in qualche modo costruire, no ancora? Ecco allora le chiedo, ma questa costruzione di questa difesa europea, a che punto siamo e come si unisce a questa visione anche atlantica? Ma allora, prima di tutto grazie, grazie per avermi invitato, è un piacere essere qui. Piccola premessa, io faccio il direttore di sicurezza al Ministero degli Esteri e quando sono entrato ormai molto più di 30 anni fa in carriera diplomatica, la filiera, diciamo diplomazia di sicurezza, politica e sicurezza, era una delle filiere dominanti all'interno del Ministero degli Esteri. Sono rientrato dopo aver fatto l'ambasciatore rappresentante permanente all'OSCE alcuni anni fa, un paio di anni fa, e ho trovato una, diciamo, altre priorità. È necessario che, per questo è fondamentale il ruolo della politica, il ruolo dei media, ancora più del ruolo delle istituzioni, degli esteri, della difesa, è fondamentale che dal punto di vista dell'opinione pubblica si ricominci a pensare alla sicurezza come una necessità essenziale. Essenziale perché senza sicurezza non c'è nient'altro. Non ci sono bollette da pagare, non ci sono tasse da maledire, la sicurezza è alla base di tutto. Non ci sono sistemi sanitari, pubblici o privati, non c'è niente. E questo forse non è entrato ancora nella mentalità delle opinioni pubbliche occidentali. In altre sì. Io farei un passo indietro rispetto alla sua domanda, poi magari tocchiamo anche. Quello che manca in questa fase è un'architettura di sicurezza europea che è andata man mano sgretolandosi nel corso degli anni. Concordo con l'ammiraglio sulla primazia della Nato, sul piano difensivo rispetto all'Unione Europea, con un dubbio, nel senso che adesso va bene, finora è andata bene, la Nato è rafforzata, è uscita rafforzata, sta uscendo rafforzata da questa crisi, dalla crisi che stiamo vivendo. Paradossalmente si è rafforzata anche la difesa europea, nel senso che ci sono stati fatti dei passi in avanti che fino a meno che non occupato, io facevo il direttore della PESC, quindi dipendevo dalle labbra del generale Farina, quando eri capo del terzo reparto di Stato Maggiore Difesa. rispetto ai passaggi che sono stati fatti negli anni, nei decenni scorsi, gli ultimi anni, cioè gli ultimi due anni, dal momento della grande crisi ucraina, anche la difesa europea è andata al traino della Nato, però ci è andata bene, nel senso che non è rimasta indietro. Però io farei, ripeto, un passo indietro, qui quello che manca è un'architettura di sicurezza europea, un'architettura di sicurezza continentale, perché come tutta l'architettura di sicurezza si basa su due elementi, i mattoni e il progetto. Qui di mattoni ce ne sono pochetti perché gli strumenti multilaterali elaborati dal 1945 in poi stanno sgrettoandosi tutti e il progetto è poi assente, nel senso che sono stati buttati via, non un bambino, tanti bambini, con molta acqua sporca, ma tanti bambini sono finiti nelle fognature. Diciamo che, se si vuole, adesso non voglio entrare in discorsi storici, perché ci porterebbe lontano, c'è stato un percorso di avvicinamento, di creazione dopo l'11 settembre, che ha avuto un culmine, secondo me, io ho le mie idee su questo, poi c'è stato un allontanamento, eccetera. Quella che mi sembra chiaro, che stiamo vivendo in questi anni, in questi mesi, è che invece non sembra chiaro a sentire le opinioni pubbliche, a leggere i media, blame the media è un classico, però i media rispondono alle opinioni pubbliche. E' che noi stiamo già vivendo una guerra mondiale, questa è una guerra mondiale, così come la guerra fredda è stata una guerra mondiale, che poi noi la chiamiamo fredda, mi risulta che in altri certi posti del mondo è stata caldissima, idem per questa, che forse è la quarta, e che è un conflitto tra i paesi e le regioni a cui va bene lo status quo, tra cui noi, e quelli a cui questo status quo non va bene, tra cui gli altri. Poi con qualcuno che gioca un po' da una parte e un po' dall'altra, permettetemi di fare il diplomatico, non faccio nomi di paesi, se no poi mi ci mandano a fare l'ambasciatore e non mi danno il gradimento. Però la sostanza è questa, la sostanza è questo conflitto è insanabile, noi avremo problemi di sicurezza per sempre e questo bisogna cacciarcelo in testa in una maniera o nell'altra. Stavo avvertito con gli alunni, però dicevo quello che pensavo. Poi possiamo dare vari nomi, possiamo dire che noi difendiamo il Rule Based International Order, io queste Rule le vedo poco, anche l'Order lascia un po' di dire, Fioraccia andava bene, ci va bene, però bisogna essere chiaro, va bene a noi, ad altri non va bene. Gli altri li possiamo chiamare come ci pare, basta che non chiamate Global South, non in mia presenza, perché il Global South non esiste, se è Global non è South, possiamo parlare Global North, Global West, Global Decay. Poi si mettono nel Global South paesi che sono tutti ben nell'emisfero settentrionale, quindi questo Sud è un po' così, anche noi emiliani siamo del Sud. però il punto è che c'è una parte di pianeta che rigetta i rapporti di forza, così come sono stati fotografati al 45 adesso e li vuole rimettere in discussione. Poi ci sono i nemici, sarebbe anche ora di chiamarli così, in diplomatichese non ci sono problemi, ci sono sempre sfide, è quello che dice anche il Signore che cura i miei risparmi. Ogni crisi è una... Ogni crisi perdo dei soldi, ogni crisi è un'opportunità, una per te, però il punto è chiamarle cose con il loro nome. ci sono i nemici visibili, quelli che chiaramente dicono non ci sta bene, lo possono dire con le armi, con la diplomazia, con tante maniere, con l'economia. Ci sono poi altre zone di mondo che si sono staccate, vivono un mondo, una realtà autonoma, possiamo anche definirla in un senso positivo o negativo, però penso per esempio all'America Latina che sembra un po' vivere in una realtà parallela per certi versi. Ci sono poi moltissimi paesi, sono la grande maggioranza che hanno posizioni intermedie tra noi, cioè quelli a cui sta bene la status quo e quelli che lo vogliono cambiare. E alcuni paesi sono anche i nostri alleati in alleanze che citava l'ambiraglio prima. E sono anche paesi, permettetemi, ripeto, di non fare i nomi, però ci sono paesi a noi molto affini, molto alleati, paesi con cui abbiamo piani militari in comune, per esempio, che non sono assolutamente contenti dell'attuale status quo. Quello che dico io, poi dopo, forse mi sono un po' perso rispetto alla domanda e chiedo scusa, ma poi dopo, se volete, ne parliamo di difeso europeo, ha scritto anche della roba, altri qui in questa stanza che conosco hanno scritto anche delle cose, quindi insomma, ho preso lei. Diciamo che il punto, voglio tornare dove ho iniziato, le opinioni pubbliche fanno la differenza, soprattutto nelle democrazie. se vogliamo rimanere una democrazia, se vogliamo che da noi le opinioni pubbliche facciano ancora la differenza come devono fare la differenza, dobbiamo essere noi, per primi, politica, istituzioni, media, a educare l'opinione pubblica alla sicurezza e a far capire che non c'è altro oltre alla sicurezza e a far tornare indietro le lancette. Non voglio essere apocalittico, però secondo me siamo un po' più o meno in un periodo che mi ricorda tanto da vicino la primavera del 1914. Quello che dobbiamo fare noi è far tornare indietro le lancette al 1913. Ma lo possiamo fare se la gente capisce, guarda il calendario e capisce che è nel 1914. Cioè sta a noi fare in modo che se vogliamo in qualche modo garantire, mantenere per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti quegli stili di vita che abbiamo conquistato sulla nostra pelle in lunghe generazioni e grandi sacrifici dobbiamo entrare in una mentalità da conflitto. Quando io mi siedo accanto e chiudo qua, lo giuro, quando mi siedo, tutti i paesi hanno il direttore di sicurezza del Ministero degli Esteri, è un istituto, un ruolo, e io mi siedo regolarmente allo stesso tavolo con i miei 26 colleghi dell'Unione Europea, 30 colleghi della Nato e sento continuamente piangere miseria, nel senso che non abbiamo più niente, non sappiamo cosa dare gli ucraini. È la realtà, abbiamo delle crisi di approvvigionamento, eccetera. Mi chiedo perché? Perché 25 volte nel caso della Nato il PIL della Russia o 10 volte nel caso dell'Unione Europea il PIL della Russia abbia e possa esprimere un problema di questo tipo. c'è qualcosa che non va. Bisogna riorientare la nostra mentalità e anche i nostri sistemi produttivi e questo lo dovete fare solo voi. Noi seguiamo. I diframatici, i militari sono bravi a tenere la rotta, io chi meno, ma definire la rotta non sta a noi. Bisogna darci un po' delle risposte. Chiudo qua, poi dopo parto per la tangente. Avremo altro tempo. Dottor Gaiani, direi che gli argomenti sono stati tanti, molto densi. a questo punto a che punto siamo con la difesa europea proprio di fronte alla sfida della Nato ma soprattutto alla sfida che dicevamo poc'anzi di paesi che questo status quo iniziano a non apprezzarlo tanto. Ci sono due aspetti positivi che in questi anni io appartengo a una generazione che si sbagliava ogni mattina guardando il telegiornale per capire se l'apocalisse nucleare sarebbe arrivata a quel giorno lì oppure si rimandava di un mese. La guerra fredda per noi era così, noi siamo cresciuti sotto l'incubo di domani ci svegliamo e ogni crisi diventava un momento di tensione quindi diciamo siamo una generazione abituata alle tensioni militari. Però l'Europa ha fatto due cose importanti in questi vent'anni sul piano della difesa. La prima cosa ha permesso l'integrazione o la cooperazione in alcuni casi l'integrazione quasi delle industrie della difesa. Ci sono oggi dei consorzi importanti che hanno fatto penso al consorzio Eurofighter penso a società come MBDA che comunque raccolgono tre grandi paesi europei ma in realtà più di più perché poi comunque dentro Airbus c'è anche la Spagna perché poi dentro ai progetti c'è anche la Germania e la Svezia che è un grande esempio di come l'Europa sia riuscita a raggiungere almeno sul piano industriale dei traguardi dei traguardi importanti penso a questa azienda e MBDA è il terzo secondo terzo produttore di missili e anche quindi esportatore nel mondo nessuna azienda nazionale dei paesi che la compongono sarebbero forse riusciti a mantenere o a raggiungere un livello del genere poi c'è un altro aspetto i fondi per lo sviluppo congiunto di sistemi d'arma di piattaforme i fondi EDA che permettono le DF il fondo europeo per la difesa che permette a tre paesi almeno tre di mettersi insieme venire finanziati almeno in parte dell'Unione Europea per sviluppare una corvetta facciamo un esempio che possa andare bene con le varie customizzazioni per ogni marina per tutte le forze europee detto questo dietro questo oltre a questo vedo se mi consentite il fumo il nulla perché perché due anni fa io non dico quando è cominciata la guerra dell'Ucraina dico quando siamo scappati via da Kabul voi lo ricordate sembrano passati vent'anni invece sono passati due anni e mezzo scarsi beh il dibattito che si è accese dopo gli americani gli americani fecero la pace con i talebani a Doha dove in Qatar dove c'era la sede dei talebani come oggi c'è quella di Hamas poi discutiamo ma loro sono cattivi perché ospitano Hamas beh no però sono buoni perché gli facciamo la flotta quindi insomma c'è un mondo molto complesso in cui dividere i buoni e cattivi secondo me diventa sempre molto difficile perché noi abbiamo preso cambio discorso un attimo sulla guerra in Israele una posizione molto netta al fianco di Israele per poi renderci conto che i paesi a cui ci siamo rivolti per rimpiazzare le forniture energetiche che non vogliamo più prendere dai russi che sono cattivi sono tutti schierati con Hamas non solo con i palestinesi con Hamas quindi insomma in questo mondo complesso credo che occorre stare molto attenti ma avere anche gli occhi guardare ben dritto quelli che sono gli interessi nazionali perché è qui che ci giochiamo tutto perché dopo la fuga da Kabul in Europa si è acceso di nuovo il dibattito l'Europa non può più essere a ruota degli americani dobbiamo strutturarci per avere capacità strategiche indipendenti perché se no andiamo a Kabul quando gli americani ce lo chiedono quando loro decidono di venire via dobbiamo venire via anche noi questo dibattito è durato fino all'inizio dell'attacco russo all'Ucraina dopodiché l'Unione Europea come struttura di difesa europea se ne è parlato soltanto in maniera sempre più spinta come ruota di scorta della Nato e allora io vi dico quello che penso sono anche provocatorio di solito cerco di esserlo una struttura di difesa europea se deve essere integrata nella Nato sono solo soldi buttati perché la Nato ha due grandi azionisti di riferimento che sono Stati Uniti e Gran Bretagna allora o l'Europa si ritaglia un'autonomia con una struttura di difesa perché le strutture di difesa costano un sacco di soldi cioè non ce lo dobbiamo dimenticare noi parliamo oggi di potenziamento delle forze armate di strutture militari acquisizioni di armi e munizioni e lo stiamo pensando di farlo mentre siamo in recessione è un conto dire beh siamo in pieno boom economico spendiamo sempre di più per la difesa è un conto è farlo e dirlo quando la società l'opinione pubblica magari ti chiedono più soldi per le casse integrazioni per il welfare perché la crisi economica morde la crisi energetica probabilmente non è finita di certo non è finita l'epoca in cui non abbiamo certezze sull'approvvigionamento energetico quelle chissà per quanto continueranno uno studio di Banca Italia pochi giorni fa lo spiegava bene allora la difesa europea ha senso se ci dà un'autonomia se deve essere sviluppata per lasciarci nella sudditanza degli Stati Uniti come dice Macron Macron è l'unico leader europeo dell'Europa occidentale che parla ancora di un'Europa che non dovrebbe essere vassalla degli Stati Uniti poi è chiaro che da buon francese Macron prevede auspica un'Europa che sia vassalla della Francia anche il suo progetto della IE2 che è l'organizzazione di struttura militare di forze militari di tutta Europa che si uniscano per una determinata missione sotto comando francese ovviamente e che altro sono gli unici ad avere un arsenale nucleare in Europa uscita la Gran Bretagna allora concludo per non rubarvi troppo tempo dicendo questo che se poi anche noi europei quando dobbiamo spendere i pochi soldi che abbiamo perché rispetto agli Stati Uniti noi non spendiamo cifre spaventose dovremmo spendere di più con le difficoltà che dicevo prima se poi anche noi europei parliamo di difese europee poi compriamo tutti l'F35 fantastico aereo ma è americano l'aereo americano non è un aereo prodotto in Europa magari possiamo produrre qualche bullone qualche componente ma non stiamo incentivando la nostra industria e se diciamo difesa europea e poi la Germania vara il progetto Sky Shield untenendo insieme 13 nazioni e decidono che la difesa aerea si farà su missili tedeschi ovviamente la Germania è capofila americani e israeliani allora è chiaro che la difesa europea diventa aria fritta perché sono decine e decine di miliardi che vengono investiti su prodotti che non sono europei se la Polonia faccio l'esempio di un paese che ha incassato molto dalla UE negli ultimi dieci anni decide di spendere di triplicare le spese militari e anche la consistenza delle sue forze armate e compra tutto negli Stati Uniti e in Corea del Sud dove in realtà si produce molto materiale bellico con componenti americane e grazie al cielo compra elicotteri italiani solo perché l'azienda che li produce in Polonia è di Leonardo allora li compra perché li fanno allora io mi chiedo quest'Europa dove va i missili antiaerei israeliani li hanno appena ordinati anche gli slovacchi e i finlandesi allora decidiamoci se vogliamo parlare di difesa europea ragioniamo prima di tutto in termini di autonomia strategica dell'Europa anche dai suoi alleati non è necessario essere per forza si può essere alleati senza essere vassalli rubo le parole di Macron di cui non sono mai stato un fan ma che mi sembrano interessanti in questo dibattito sulla difesa europea e poi decidiamo che i nostri soldi pochi o molti che saranno li investiamo su prodotti sviluppati in Europa qualcuno può dire e concludo sì ma con l'Americano è più evoluto è più avanzato è certo se non investiremo sulle ricerche e sviluppo dando alle nostre imprese i fondi per costruire qualcosa di nuovo e quindi per fare ricerca tecnologica saremo sempre più arretrati il Gcap vede nazioni come l'Italia la Gran Bretagna il Giappone e la Svestria lavorare su un prodotto ad altissima tecnologia che è ancora da vedere che è ancora in divenire ma che potrebbe anche in futuro assorbire altri paesi europei come Francia e Germania che stanno lavorando a un progetto che sembra stentare a decollare come quasi tutti i programmi militari congiunti franco tedeschi quindi partiamo da una valutazione strategica in cui dobbiamo essere strategicamente indipendenti o quello è l'obiettivo anche dai nostri alleati perché essere alleati è un conto essere vassalli è un altro grazie grazie mille allora in realtà l'intervento del dottor Gaiani mi serve un sacco di assist devo dire che sotto questo profilo non so neanche da dove iniziare però una in particolare perché e qui mi rivolgo alla Milaglio De Felice giustamente parlavamo di traumi che ci sono stati ultimamente abbiamo visto la guerra in Ucraina prima dopo ovviamente adesso la guerra in Israele prima ancora c'è stata la fuga da Kabul ma prima ancora in Europa c'è stato un altro elemento di frattura che ormai si venne dato quasi per scontato che è la Brexit perché poi fondamentalmente una grande potenza dell'Unione Europea non fa più parte dell'Unione Europea e questo ci collega anche il fatto che ci sono paesi alleati che non sono l'Unione Europea ma sono invece potenze della Nato e appunto Stati Uniti e Gran Bretagna sono Nato l'Italia in questo senso ha un ruolo forse un po' che ruolo può avere di fronte a una sfida così importante a livello strategico come l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e come in questo momento l'Italia si sta rapportando a questa realtà perché in fondo Londra è il nostro partner non chiaramente Sì grazie per questa domanda perché effettivamente trova peculiare la posizione dell'Italia nell'ambito dell'Unione Europea che ci differenzia in un contesto geopolitico rispetto alla Nato perché effettivamente gli interessi nazionali italiani coincidono con gli interessi europei per il fatto che noi ci troviamo nel fianco sud dell'Unione Europea è vero anche della Nato però sappiamo benissimo che gli Stati Uniti hanno ormai deprioritizzato la presenza navale e comunque militare nel Mediterraneo come giustamente hai ricordato tu la Gran Bretagna se n'è uscita dall'Unione Europea quindi non presenta più assetti militari europei quindi sappiamo che la Gran Bretagna è stata imprestata e lo è ancora adesso una grande potenza marittima nel Mediterraneo allargato abbiamo una Turchia che è sempre più con sempre più aspirazioni egemoniche abbiamo la situazione in Israele alquanto instabile abbiamo l'Egitto l'Algeria in grande in grande riarmo per cui secondo me si prospetta la possibilità parlando adesso in maniera pragmatica concordo sul fatto che occorre avere un'autonomia strategica che però è abbastanza teorica perché se non c'è una volontà politica è difficile avere poi una politica di difesa unita e quindi questo ci riporta al solito la palissiano discorso il fatto che se manca la politica estera comune manca anche la politica di difesa comune detto questo però il momento in cui esce fuori una potenza tale come quella della Gran Bretagna l'Italia con la Brexit potrebbe assumere un ruolo di una dimensione geopolitico militare a forte connotazione marittima su questo non c'è dubbio chi altro potrebbe assurgere a questo ruolo in questo momento nell'Unione Europea forse la Francia però noi ce la giochiamo con la Francia è vero che non abbiamo la forza delle frappe però abbiamo una posizione che ci presenta come una capacità multidominio non parlo soltanto della Marina Militaria ma parlo anche delle nostre capacità che si sono il generale Farina se lo ricorda bene in Kosovo abbiamo avuto modo di proiettare un corpo d'armata in tutto e per tutto con le tre forze di impiego parlo delle forze di combattimento la forza di supporto al combattimento la logistica quindi abbiamo l'esperienza e la capacità di presentarci come un punto di riferimento a connotazione marittima nell'ambito della difesa europea questo secondo me è una cosa che deve uscire fuori perché è importante anche perché permette di identificare gli obiettivi che l'Italia con i suoi soldi con i suoi pochi soldi non soltanto nella difesa ma anche nel contesto diciamo di tutti i strumenti di potere nazionali io parlo del diplomatico parlo dell'intelligence parlo ovviamente del militare ma anche dell'economico tutti questi strumenti di potere nazionali dovrebbero essere direzionati a cura ovviamente dei vertici sia politici ma anche dei vertici diciamo tecnico-operativi quindi da noi militari verso una assunzione di dimensioni operative da una parte cioè che ci portino ad essere più presenti e anche magari con maggiore leadership nelle posizioni nelle missioni e operazioni in Africa nel Mediterraneo in Africa e Medio Oriente ma poi c'è anche il problema capacitivo che giustamente veniva ricordato da Gianandrea e cioè il fatto che i pochi soldi che abbiamo devono essere direzionati per avere uno strumento orientato ad assicurare al vertice politico la propria missione se è vero che il piano Mattei deve essere portato avanti non possiamo pensare che non ci possa essere uno strumento militare idoneo a sostenere il piano Mattei il piano Mattei vuol dire molto è una cosa complessa non vuol dire soltanto dare i fondi per lo sviluppo al Senegal al Mali o alla Tunisia occorre creare tutta una dimensione diplomatico militare tale che possa in qualche modo portare al raggiungimento dell'obiettivo quindi anche là io sono ammiraglio per cui faccio un po' la parte di quello che si lamenta un po' del fatto che la Marina effettivamente in Italia è la cenerentola sia dal punto di vista del personale che dal punto di vista della spesa stiamo parlando di 26-27 mila persone contro un fabbisogno di 40 mila stiamo parlando di 52 navi combattenti contro un centinaio di necessità parliamo di 8 sommergibili ne servono 25 stiamo parlando di numeri grossi non parlo poi delle forze speciali che è un problema poi comune non soltanto della difesa della Marina ma anche dell'esercito dell'aeronautica dei Carabinieri cioè stiamo vivendo con una condizione che dal punto di vista politico è partita però dal punto di vista capacitivo di sostegno a quest'idea del piano Mattei occorre indirizzare le risorse sulla base anche delle esperienze del fatto che la guerra russo-ucraina è nata ed è combattuta per il predominio del Mar Nero e della posizione della foce del Don che collega il Mar Nero a tutti i mari del Mar Baltico il Mar Bianco il Mar Caspio eccetera quindi ci sono delle strategie che portano avanti quella guerra che non sono legate ai russofoni o alla volontà di prevaricazione su Kiev da parte della Russia invece proprio la volontà di mettere in porto una strategia che è quella di controllare il mare e quindi i commerci e le vie di comunicazione strategiche per la Russia che non ha altri sbocchi se non il Mar Nero anche per quanto riguarda i suoi interessi nell'Indo-Pacifico e nell'Atlantico quindi su tutte cose che vanno ragionate in questo senso e vogliamo fare il piano Mattei c'è l'Unione Europea che vede la Gran Bretagna ormai fuoruscita allora l'Italia si assumi la responsabilità di avere questa dimensione operativa ma anche multidominio a forte connotazione marittima questo è un po' il mio pensiero grazie 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 mille Amiraglio beh dottor Azioni lei ha penso innanzitutto una domanda a cui deve rispondere perché prima ha detto che me la aspettavamo il secondo turno però a questo punto una domanda mi sorge spontanea dove può andare la difesa europea quali sono gli interessi che deve tutelare molto è stato già detto io mi ricordo solo che quando sono rientrato dalla Turchia nel 2013 2012 nel 2013 avevo organizzato un convegno che è nel 2013 dieci anni fa che si chiama More Europe on Defense c'eri pure tu e durante quel convegno abbiamo è molto interessante perché da fonti aperte nel corso del convegno avevo guardato quanti fucili d'assalto avevano i 28 allora paesi 34 diversi dove voglio andare a parare su questo voglio costruirlo su una cosa che ha detto prima Gianandrea c'è un problema voglio andare in controcorrente non abbiamo un problema di soldi non abbiamo un problema di quantità di soldi abbiamo un problema di qualità di spesa che se noi spendessimo meglio i soldi che abbiamo non avremmo problemi l'Europa insieme spende il 32% di quello che spendono gli Stati Uniti per la difesa il 32% ora chiedo secondo voi quali sono le capacità delle militari dell'Unione Europea tutti insieme rispetto a quelle degli Stati Uniti sono generoso 7% 8% tutto il resto sono soldi buttati via se noi spendiamo il 32% degli Stati Uniti e abbiamo il 7% di capacità veramente c'è bisogno di più soldi secondo me no c'è bisogno di spendere meglio in modo più coordinato è qui che ritorno che ritorna il mondo è senz'altro più complesso quando però parliamo di interesse nazionale che deve essere la nostra guida soprattutto nel mio caso pagate voi lo stipendio mio lo pagate voi per me l'interesse nazionale è la stella polare però bisogna intendersi in che quadro questo interesse nazionale va sviluppato senz'altro nel quadro del continente in cui siamo dell'alleanza atlantica ma è questo il quadro questo quadro è parte dell'interesse nazionale il mondo si è reso più complesso abbiamo strani compagni di viaggio anzi strani compagni di letto si sarebbe detto una volta e dobbiamo fare di necessità virtù dobbiamo senza esagerare senza esagerare l'esagerazione qui è individuale però il punto è che dobbiamo dobbiamo sviluppare il nostro interesse nazionale nel quadro in un quadro che non ci veda da soli perché poi a fare i freelance dopo alla fine uno rimane solo e questo è per noi Italia in questo campo l'Italia deve fare un bagno di realismo noi abbiamo sempre oscillato scusate questo è personale non parla diplomatico parla Alessandro noi abbiamo sempre oscillato tra velleità imperiali e italiette noi dovremmo trovare una via di mezzo l'Italia è una cosa importante è un paese importante nel quadro mondiale e continentale evitiamo velleitarismi evitiamo di spararci nei piedi da soli non siamo né l'Italietta né l'impero romano 2.0 cerchiamo di trovare una via concreta in questa via concreta secondo me fa parte anche un modo di adattarsi alle realtà complesse tu lei tu hai parlato di F-35 non facciamo i bulloni facciamo le ali il cassogna un aereo senza ali non vola tantissimo ma non è che le faccia solo no per carità ci mancherebbe altro però secondo me l'F-35 invece per quanto mi riguarda è un progetto è un success story facciamo le navi facciamo le navi facciamo tutto quello che ammiraglio vuole fare le navi per forza di cose io volevo fare le ambasciate però il più il problema è quello che dicevo prima integrazione l'autonomia strategica detta così ha poco senso è anche declinata come si declina da qualche altra parte ha poco senso l'autonomia strategica per fare cosa noi dobbiamo stabilire cosa vogliamo fare poi dopo si stabiliscono le strategie e le tattiche non sono io a doverle insegnare a voi però l'autonomia strategica per fare cosa è su questo che secondo me io sono d'accordo sulla divisione dei ruoli noi siamo i grandi avvocati del fianco sud della Nato quando mi rendo conto non rivelo un segreto che negli ultimi consigli atlantici si è parlato più di Indo-Pacifico che di Medio Oriente a me un pochino mi viene un po' rabbia perché tra il Nord Atlantico e l'Indo-Pacifico con tutto il rispetto per l'importanza della sfida che viene da quelle parti c'è anche il Mediterraneo allargato chiamatelo Mena Medio Oriente Nord Africa però insomma geograficamente se uno guarda la cartina ci viene quello e noi siamo i grandi avvocati del fianco sud della necessità per la Nato di non dimenticare che il conflitto è un conflitto generale non è fronte est fronte sud è un'area di è un gigantesco arco di crisi che va dall'Artico al Sahel facendo un giro su Caucaso Ucraina in corno d'Africa se non voglio fare le cartine le leggete su altri mensili molto diffuse il punto però è quello cioè per stabilire se abbiamo bisogno di un'autonomia strategica ce l'abbiamo bisogno per fare cosa questo dobbiamo ancora deciderlo autonomia strategica dagli Stati Uniti welcome to the jungle si dicevano i guns and roses a proposito dell'americano si autonomia strategica dagli Stati Uniti anche questo per fare cosa e come perché allora diventa complicato perché lì sì che servono soldi tantissimi soldi non quelli che spendiamo male in in sistemi d'arma poco integrati o non abbastanza integrati perché questa è la realtà è il polacco che prende il 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 Panther come si chiama l'Ucraina la Tigre ha preso il K2 il carro il Black Panther lo chiamano il Black Panther i carri armati si chiamano con i grandi felini dal 1939 Tigre Leopard però l'ha preso perché forse gli conveniva forse è vero sono d'accordo noi facciamo le navi qualcun altro fa i carri ci sta bene al nostro sistema industriale sta bene non lo so però bisogna fare pace ripeto col proprio cervello capire dov'è l'Italia cosa può fare l'Italia cosa non può fare l'Italia e e stabilire che se si guarda da una parte si perde dall'altra grazie 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 mille beh allora qui le domande le ha praticamente fatte lui per cui cosa cosa deve fare la difesa europea e un'altra domanda che faccio io si è parlato di amici di letto chi sono e chi non sono ma allora intanto io penso che uno compri i carri armati dove vuole però se parliamo di difesa europea in Europa si fanno degli ottimi carri armati le opere tedeschi ne compreremo anche noi poi uno può discutere se c'è qualcosa di meglio sulla piazza in questo momento o ci sarà più avanti l'RF35 io non discuto sul fatto che sia un ottimo aereo dico solo che non è europeo e tutte le volte che compriamo roba non europea diamo un colpo alla difesa europea all'industria della difesa europea che i nostri alleati americani che sono molto pragmatici e pensano ai loro interessi nazionali e li perseguono perfettamente io lo trovo legittimo mi sembra assurdo che non lo facciamo noi non è che giudico chi fa i propri interessi che siano russi americani cinesi tunisini se noi stiamo aiutando militarmente l'Ucraina abbiamo finito perché non abbiamo più niente da dargli gli abbiamo promesso un milione di proiettili e gli abbiamo 300 mila perché li abbiamo prelevati dai nostri depositi che erano già semivuoti per cui gli ultimi studi da fonti aperti io non ho accesso a dati segreti mi dicono che gli eserciti europei potrebbero combattere una guerra ad alta intensità convenzionale come quella in corso in Ucraina per 3-4 giorni i francesi che sono messi meglio arriverebbero a 5 giorni lo dicevo un rapporto presentato al senato francese l'anno scorso dietro un'interrogazione 5 giorni poi finiscono le munizioni ma poi finiscono anche i carri armati e i cannoni perché comunque in una guerra del genere quello che viene distrutto danneggiato usurato dall'intenso impiego si fa in fretta ad appiedare flotte di carri armati che sono per noi di 150 veicoli 150 carri non tutti operativi per i francesi di 250 i tedeschi di 350 non tutti operativi ovviamente ma questo perché perché noi ci siamo preoccupati ci siamo preparati per 25 anni io direi dopo l'11 settembre 2001 dopo il 2011 le primavere noi ci siamo preparati a combattere guerre a bassa intensità contro nemici asimmetrici quindi contro milizie talebani ISIS quello che volete Al Qaeda e quindi ci arrivano poche truppe poche migliaia di soldati da mandare lontano con strumenti equipaggiamenti leggeri che dessero molta mobilità perché dovevi muoverti su spazi immensi qualcosa di simile con tecnologie molto più arretrate l'abbiamo fatto in europei durante le guerre coloniali quando controllavamo imperi vastissimi con poche migliaia di soldati a cui venivano affiancate diverse migliaia di milizie locali gli Askeri i Dubat ognuno aveva i suoi preparandoci a quel tipo di guerra beh noi abbiamo detto questa è la guerra che ci aspetta quindi tutto quello che è artiglieria mezzi corazzati cacciabombardieri ma non ci servono più noi durante la guerra fredda quando io facevo il liceo avevamo 1300 calarmati certo non tutti operativi oggi ne abbiamo 150 assolutamente non tutti operativi e questo vale per tutti i paesi europei allora se oggi noi dobbiamo riconvertirci per tornare ad avere numeri quindi vuol dire molti soldati vuol dire creare delle riserve richiamabili molti calarmati molte munizioni beh noi abbiamo da spendere un sacco di soldi io non credo che riusciremo a farlo perché? perché deviare in un momento di recessione noi facciamo fatica in Europa a produrre acciaio costa troppo non abbiamo certezze sugli approvvigionamenti energetici al punto che non lo dice nessuno per carità di patria ma stiamo comprando un sacco di gas liquido russo e stiamo comprando gas in forma gassosa dalla Russia attraverso il Turk Stream che è quel gasdotto che porta il gas russo in Turchia e poi i turchi ce lo rivendono certo ci costa molto di più di quello che compravamo direttamente dai russi attraverso l'Ucraina o altri canali quindi io credo che questo contesto attenzione ha un risvolto economico ma anche di conseguenza un risvolto politico perché accentuare la spesa militare in un contesto di difficoltà economiche e quindi sociale potrebbe determinare importanti cambi di governo perché i consensi si spostano sta già un po' succedendo se ci guardiamo intorno nella piccola ma non ininfluente Slovacchia Fizzo ha vinto con un programma nessuna sanzione alla Russia neanche un fucile all'Ucraina e lo sta applicando mi pare che anche in Olanda abbiano vinto forze che fino all'altro giorno non sembravano potersi imporre in Parlamento quindi attenzione perché questo contesto rischia di essere destabilizzante e quindi entro 4 anni potremo tornare a essere molto amici dei russi semplicemente perché se ci sarà la pace in Ucraina ovviamente che auspichiamo credo tutti ma semplicemente perché non ci sarà più in Europa un solo governante di quelli che hanno voluto il braccio di ferro con la Russia mentre a Mosca ci sarà forse ancora Putin e quindi guardiamo un po' una realtà che non è poi così così lontana e faccio solo un'ultima riflessione perché mi sembra importante è vero dire che l'Italia è un ambasciatore non possiamo considerarci taglietta io sono d'accordissimo ricordiamoci che siamo parte del G7 siamo dalle prime 12 potenze economiche e tra le prime 15 per spesa militare nel mondo insomma non ci non ci sentiamo in grado di rifondare l'impero però neanche di essere l'ultima ruota del caro però al di là dei discorsi europeisti su questo dobbiamo lavorare per i nostri interessi nel senso che prima Miraglio parlavi del piano Mattei accidenti noi dobbiamo essere in grado di aiutare la Tunisia con 2 miliardi anzi 1,9 miliardi di euro senza farci prendere in giro dall'unione europea dove altri paesi hanno tutto l'interesse che noi non raggiungiamo un'intesa con la Tunisia così continuiamo a essere nei guai con i migranti nel Mediterraneo se parliamo di piano Mattei noi dobbiamo andare in Africa come Italia perché l'esperienza che ho avuto io in Nord Africa e Sahel ho visto molti governanti locali chiedere più Italia non più Europa anzi i francesi la non li vogliono più vedere Mali Niger Burkina Faso paesi quando ci sono stato però dicevano già dieci anni fa venite voi italiani e allora ha ragione l'ammiraglio su questo un piano Mattei un piano che ci porti in Africa con l'idea di stabilizzare l'area che è nell'ambito della credibilità delle nostre ambizioni e cioè il Mediterraneo o il Mediterraneo allargato il Mediterraneo appena fuori Suez e appena fuori Gibilterra ecco quella è nelle nostre ambizioni nelle nostre capacità però lì dobbiamo avere la capacità di lavorare da soli perché i nostri rivali storici sono i francesi i turchi i britannici e quindi su questo dobbiamo avere l'idea molto chiara concludo ricordando proprio su quello che diceva l'ammiraglio che ho condiviso molto e che tutti i paesi africani con cui ci si può interfacciare oggi in Nord Africa e Sahel perché come diceva dieci anni fa mi diceva Mohamed Bazoum allora ministro degli esteri poi presidente del posto del Niger ma perché avete rovesciato Gaddafi avremo trent'anni di disastro e di destabilizzazione in tutta l'Africa e voi europei verrete cacciati da qua e infatti i russi e i cinesi ce ne stanno suonando ma anche i turchi ce ne stanno suonando ampiamente in tutti questi paesi qua oggi anche per causa nostra perché quella guerra non l'ha voluta l'Italia ma l'ha fatta la Nato e noi gli abbiamo dovuto obbedire in tutti quei paesi africani la prima cosa che chiedono in un rapporto di partnership con un paese come può essere l'Italia è supporto per la difesa e la sicurezza perché tutti hanno problemi di insurrezione banditismo diffuso terrorismo e perché i russi sono vincenti perché arrivano giù e gli dicono cosa ti serve armi? eccole consiglieri militari eccoli combattenti chiamo gli amici della Wagner poi si può chiamare in un altro modo oggi e forniscono innanzitutto quel tipo di supporto cosa che noi invece siamo molto resti a fare al massimo mandiamo 50 istruttori che stando a Niamei a destra vogliono altro hanno bisogno di altro generale non lo sai benissimo o siamo capaci di offrire questi prodotti chiamiamoli prodotti di sicurezza che vuol dire puoi portarci dietro le imprese vuol dire fornirgli oggi il nostro surplus mi dai un altro minuto perché perché non abbiamo proposto noi all'Ucraina una flotta Miraglio ti rubo il mestiere abbiamo un sacco di navi che stiamo radiando io l'ho anche scritto agli ucraini gli diciamo vi diamo la nostra flotta cosa vi serve sopra? ce lo dicono il refitting lo fa fin cantieri la Marina si prende il contratto perché se non lo faremo noi lo faranno gli altri perché tutti noi europei ci siamo messi a lavorare io a me sembrava di sognare per formire agli ucraini degli F-16 di 40 anni fa che sono prodotti americani ormai cellule da buttare li useranno un po' e poi ma in questo modo tu regali un cliente a Lockheed Martin domani l'Ucraina con i fondi Nato americano comprerà i nuovi F-16 o magari gli F-35 ma perché non ci siamo dati da fare per vendere gli nostri Eurofighter Typhoon i Rafale francesi gli M346 tanto dobbiamo pagare noi ma almeno forniamo gli equipaggiamento nostro siamo in Europa mettiamoci d'accordo lottizziamolo a noi è una guerra che si combatte a due passi da casa nostra quindi mettiamoci noi in gioco forniamo gli il nostro equipaggiamento è vero che lo pagheremo ma poi ci ritorna indietro perché lavorano le nostre aziende è per questo che gli americani stanziano queste cifre immense perché i 9 decimi gli ritornano in casa allora è qui che vorrei vedere più Europa e di quello di cui parlavo prima invece vorrei vedere più Italia e secondo me è su questa dualità che dovremmo lavorare innanzitutto politicamente direi che sono stati interventi più che brillanti interessanti e soprattutto siamo anche in perfetto orario di più che che di più che vedi questo è tutto è molto